No, qua c'è il giocatore del Porto che tende De Miral al 21esimo minuto nel nostro giallo chiarissimo, secondo me l'arbitro qua non fiste nulla. Che invece... Adesso la Juve che prova ripartita da dietro, ripeto, secondo me il rigore della Juventus è una grande, grandissima ingenuità di De Miral che lì deve solo far sentire il fisico senza mettere le gambe su un giocatore che ha il possesso della palla perché l'aveva preso prima. Non l'ha messo la gamba, ma gliel'ha appoggiata a Ciro. No, no, mi dispiace Marcello, se giochi a pallone, se un giocatore ti si mette davanti così e protegge la palla tu gli arrivi e ti è un calcio, tu l'appoggio, è pago. Ma non devi toccargli le gambe, perché tanto la palla non gliela prendi mai, ti metti dietro, gli fai sentire che ci sei, con le mani, come voi tu, ma non con la pedata che piene che non serve niente. Il Porto entra in area di rigore dalla sinistra, mette in mezzo un pallone, l'attaccante a vuota sicura colpisce, però prende in pieno Bonucci, la palla torna indietro in modo sporco e vagava nella parte alta dell'area, arriva di testa un altro giocatore del Porto che colpisce e spizzica o spizza l'angolo alto. I per colpa di Demirale. Cesni che controllava, poco dopo, palla dentro di quadrado, altro colpo di testa del giocatore della Juve questa volta di Ramsey, la palla va un po' più alta che l'incorso dei pali, bella l'azione, occhio di quadrado. Chiesa! 2-1 Juve, 1-1 Juve, che 2-1? Scusate, ancora Federico Chiesa la mette sotto l'incrocio, entra in area di rigore, servito da Ronaldo, assist del portoghese, palla dentro per Chiesa che arriva di piattone, la mette lassù dove il portiere, non arriva, dai ragazzi, forza, ne serve un altro per andare ai supplementari, forza, vi siete complicati la vita da soli, adesso la risolvete, palla dentro per Ronaldo sul filo e fuori gioco, mette giù il pallone, arriva Chiesa, bellissimo il gol del numero 22, bellissimo il gol del numero 22, bellissimo Federico! In tribuna, quindi c'è il secondo giallo, per cortesia di solito succede questo, la palla rimane lì, Tareni arriva con tutta la foga del mondo e calcia il pallone fuori, praticamente da tutto il rettangolo del campo, la calcia direttamente in cuore. Tareni, Tareni a casa, e tu sei il primo, vediamo se riusciamo a fare fuori anche i tuoi compagni magari stasera, parlando prima che nessuno si offenda. Tareni, Rosso, al 54esimo minuto il Porto rimane in 10, giustamente! Fesseria incredibile! Questo è un battaglio mirato! Una cosa incredibile! Uno così nella mia squadra non giocherebbe più! E sta anche in vendo in modo abbastanza alto, c'è un po' di spazio, perché ti fermi? Tu ti fermi, i giocatori sono fermi, quando la palla non ce l'hanno tra i piedi i giocatori della Juve sono fermi! Rabiot, Ronaldo, Rabiot, giro palla della Juve, palla dentro per Chiesa, sul secondo palo, Chiesa è di testa, salta il portiere, arriva Pepe! Calcio d'angolo, ma Pepe qua fa un miracolo assurdo perché Chiesa è di testa, anticipa il portiere in uscita, va dentro l'area di rigore, sta per calciare, mentre scivola, arriva Pepe che riesce con un colpo! Non so neanche come, ma... Non credo neanche che la presa... la presa è Chiesa! Chiesa! Federico Chiesa! La ribalta sul pallone che cantava di Juan Quadrado! 2 a 1 Juve! 2 a 1 Juve! 2 a 1 Juve! E manca ancora mezz'ora! Federico! 25 metri abbondanti, Sergio Oliveira parte col destro, raso terra! Gol! Mamma mia! Go! Chiesa! 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 Incredibile! Chiesa! Chiesa! Ma non è colpa di Chiesa! Ma non è colpa di Chiesa! Non è colpa di Chiesa! Ha presciuto un gol su un palo, neanche 25 metri e tirano a terra! 15 metri fuori dell'aria! Io voglio dire un'altra cosa! Allora dai! Al bilan! Adesso perché De Ligt è in trenare di rigore! Vediamo! Stop! Palla! Ha preso la palla! Caccio d'angolo! Non c'è niente! Il gol del pareggio del Porto! La caccio d'angolo! 3 minuti recupero! Ancora 2 minuti e mezzo a giocare! Quadrado la bandierina! Scusate! Quadrado! Palla dentro! Saltano tutti! La palla di Maggiù!